Assessorato regionale della Sanità a Pescara. Sono tornati a manifestare gli os della ASL lanciano vasto chieti i risultati idonei un anno fa. La graduatoria dell'ultimo concorso ad eccezione dei 162 vincitori assunti, ma facenti parte del vecchio fabbisogno 2019-2021 è ancora in situazione di stallo. Per questo i candidati risultati idonei lanciano un nuovo appello all'azienda sanitaria anche in forza dell'ultima ordinanza emessa dal TAR, come sottolinea il portavoce OS Gaetano Balzano. Noi idonei ci siamo rivolti al TAR per fare ricorso dove il giudice del TAR prescriveva alla ASL la valutazione dello scorrimento graduatoria a partire dal 30 giugno che sarebbe la scadenza delle proroghe dei contratti a tempo determinato per emergenza Covid e utilizzando le clausole risolutive nei contratti di lavoro, cosa che invece l'ASL ha deciso di non fare, di prorogare ulteriormente questi contratti che attualmente ne sono 149 perché una parte è stata stabilizzata con le nuove linee regionali, le linee guida regionali e quindi 151 stabilizzate e il resto stanno andando avanti con le proroghe, però noi siamo ancora qui ad aspettare. Cosa siete disposti anche oltre che a chiedere a fare qualora la situazione di stallo continui? Noi sicuramente andremo avanti perché noi già abbiamo fatto degli esposti all'ispettorato della funzione amministrativa a Roma alla Corte dei Conti lamentando proprio questa situazione perché comunque l'utilizzo continuo di contratto a tempo determinato rappresentano una spesa per la sanità pubblica. A spostare la causa degli operatori sociosanitari che sono stati ricevuti dall'assessore regionale Verì, il presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che da tempo punta il dito sulle criticità della sanità brussese. In particolare questo scorrimento mancato delle graduatorie secondo lei perché non avviene mancanza di fondi, mancanza di volontà? E perché la regione non riesce a pianificare, a programmare, dovrebbe fare un nuovo fabbisogno, se fa un nuovo fabbisogno. Vediamo che servono centinaia e centinaia e centinaia di os ma non solo di infermieri, di medici. A quel punto tu puoi assumere tutti sia quelli della graduatoria che quelli della stabilizzazione e quindi non alimenti e non crei una guerra tra i pochi. Invece in questo momento si sta creando che si fanno alcune stabilizzazioni, poi non si scorrono le graduatorie, quelle delle stabilizzazioni che ci rimangono male, quelle della graduatoria ci rimangono male, non si sa che fine debbono fare le persone che come eroi hanno lavorato e lavorano nella nostra sanità. Sicuramente la sanità è a pezzi, crolla, c'è una medicina territoriale distrutta, pronto soccorso che scoppiano, dove i cittadini sono costretti a fare decine e decine di ore di attesa e i posti letto che mangano. Quindi una sanità completamente da rivedere, da riprogrammare, da rifondare.